Negli ultimi anni ha strigliato gli aspiranti cuochi nel programma Hell's Kitchen. È orribile! Non ho parole! Fuori! Fuori! Ora Gordon Ramsay, celebre chef, ristoratore acclamato dalla critica a Londra, Dubai, Tokyo, New York, gira l'America in lungo e in largo per la sfida più dura della sua carriera. Questo è disgustoso! Non ho parole! Le cucine da incubo americane. Mi aiuti! In ogni episodio, Ramsay visiterà un ristorante sull'orlo del disastro. Non c'è più un soldo. Non fa il suo lavoro. Qui siamo a un passo dal disastro. È tutta la mia vita. E per rimetterlo in carreggiata, dirà le cose come stanno. Io non ho mai, 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 mai incontrato una persona meno affidabile di te. Nessuna pietà. Fanca! Maiali! Vi svegliate o dobbiamo aspettare il morto nel ristorante? Era una vera merda. Vieni a parlarne fuori. Tu sei... Nessun limite. Sei solo un bastardo! Basta! Ne ho abbastanza! Non è colpa mia! Se faceva schifo, perché l'avete mangiato? Via, via! Sarà un vero shock. Licenziali! Mamma mia, eccoli qui. Non vedi che qui è tutto marcio? L'ho mangiato! Ci ha sputtato dentro. Secondo me, se te ne vai, è molto meglio. Ora, va di là a dire che la cucina è chiusa. Basta! È meglio per loro! Chiudiamo? Chiudiamo e basta! Questo sarà un successo. Alza la mano e giurano. Ci saranno drastiche trasformazioni. Orribili! Non solo nei locali. È delizioso. Fantastico. Ma anche nello staff. Non ti dimenticheremo mai, sei il migliore. Molti apprezzano il suo aiuto. Dio la benedica. Lei è meravigliosa. Altri molto meno. È la mia cucina. Chef, so che mi senti! Non correre! Perché è qui? Chi sei tu per dire a me come si fa? Quando sul lavoro sei peggio di un maiale! Sì, un c***o! Addio e buona fortuna, chef! In breve tempo, Ramsey trasformerà le cucine da incubo americane... Signore, ti ringrazio per questo cibo, ma fa che non mi avveleni. ...in cucine da sogno. Vi prego, stasera non dovete fallire! ... ... ... ... ... ...